Ripeti con me. Non puoi piacere a tutti. Sono tutti d'accordo, guarda, su sta frase. Peccato che poi quando le aziende, i professionisti comunicano, nel 99% dei casi, cercano di piacere a tutti. Sono peggio dei politici. Ma Beleni, in comunicazione non siamo politici. Non dobbiamo far star tranquilli tutti e non scomodare le opinioni di nessuno. Cercare di piacere a tutti vuol dire finire per non piacere a nessuno. E allora perché la maggior parte delle aziende i professionisti cercano ugualmente, inconsciamente, o consciamente o per paura, di piacere a tutti. Sono stacco stamattina. Non so, pochino stacco, lo admito così. Due luoghi comuni che sono un grande classico. Il primo è credere che non piacere a tutti, voglia dire avere delle posizioni scomode. Voglia dire fare delle campagne di comunicazione provocatorie come quelle di Olivero Toscani. Oppure essere dei bastian contrari che urlano alla sgarbi. Quando invece non piacere a tutti, vuol dire semplicemente che esprimi quali sono i tuoi valori, prendi delle decisioni. Ho visto l'altro giorno un allenatore di calcio, non segue il calcio, probabilmente era Murigno, uno così che diceva oh, io devo prendere decisioni. Ho 29 giocatori, ne giocano solo undici, quelli che stanno fuori, pensate che siano felici. Incazzate come delle bici a quell'allenatore. Ma io devo prendere delle decisioni. Prendi delle decisioni. Se produci olio, la tua decisione può essere. Io produco olio, esclusivamente, con olive italiane. Se vuoi l'olio quello mix con le olive tutte europee, o vuoi l'olio spagnolo, non sei un mio cliente, mi dispiace. Parentesi, l'olio italiano purtroppo non esiste più. Qua in Inghilterra sono tutti i nomi italiani. Ma se vai a vedere, ma quando mai trovi olive italiane? Non ne trovi più le olive italiane. Ci sono più, non lo so perché ci hanno fottuti. Il secondo luogo comune è quello che definirei la sindrome del politico precisetti. Immaginate di essere un politico, che devi tenere buoni tutti, e vuoi essere molto preciso con ognuno, dando tutte le informazioni a tutti quanti. Le aziende e i professionisti. Quando comunicano, hanno questo problema. Cercano di dare più informazioni possibili, essere il più precisi possibili, con tutti i possibili potenziali gruppi di potenziali clienti. Quanto cazzo di volte l'ho detto, potenziali in queste tre frasi. E andiamo, dai. In realtà noi sappiamo che gli esseri umani, noi, non decidono in modo logico, razionale, così come mille economisti vorrebbero farci credere. Ma decidono spesso in modo istintivo, e molto spesso, abbiamo dei comportamenti molto precisi, basati su una conoscenza del tutto imprecisa. E ve lo dimostro. Questo è un test del 1979, fatto da Ray Nickerson e Marilyn Adams. In sostanza, ti chiedono, sei in grado di riconoscere qual è il penny giusto? Lo usi tutti i giorni, vale per qualunque moneta, tra parentesi. Nella stragrande maggioranza dei casi, non hai la più pallida idea di che cosa c'è esattamente scritto su quella monetina, che usi tutti i giorni. Ma la usi uguale, senza problemi. Quando comunichiamo, leish test. Non possiamo essere precisi, precisetti, perfetti, per qualsiasi cluster di cliente possibile e immaginabile. E qua, la parola cluster, vorrei che venisse stampata in ogni scuola d'Italia, da oggi in poi. Grazie. Non si riesce più a parlare senza l'inglese, amici. Questa è la verità. Io poi ci vivo in Inghilterra, è ancora più difficile. E se ancora hai dei dubbi e il voler piacere a tutti che in te comunque preme dentro la tua cassa toracica, un paio di suggerimenti. Numero uno, non censurare i tuoi valori per tenere tranquille le critiche di qualcuno che tanto probabilmente non è neanche un tuo cliente. E suggerimento numero due, ricordati questo detto. Non ho la più pallida idea di quale sia la formula del successo. Ma la formula matematica per avere un successo è cercare di piacere a tutti.